Questo video è dedicato a chi non è mai salito in quota. Vivere di emozioni, vivere per la montagna, vivere per un paradiso così e tenercelo caro è un dovere che dobbiamo avere tutti. Buona visione. Il migliore, Pier è il migliore. Il migliore, Pier è il migliore. Ho sempre desiderato di venire quassù. Beh, se venivamo di mattina preferivo, anche se arrivare qui in pieno sole, chiedo che si sta meglio ora. Comunque, adesso vi lascio che ho da fare. Ciao. Ma vi rendete conto della meraviglia della natura? Su che pianeta siamo? Per il momento, per quanto ne so, è il più bello dell'universo. Noi non siamo contenti e lo stiamo distruggendo per i soldi. Noi non siamo contenti. Noi non siamo contenti. Dionnoion! Noi non siamo contenti. Ciao! Ciao! ica!